Un pianista di grande livello, la camerata musicale ha offerto ai suoi affezionati spettatori. Prima di iniziare il concerto, l'artista ha illustrato il suo programma in un buon italiano, pur essendo statunitense. Richard Tretall vive da molti anni a Roma e parla discretamente la nostra lingua. Tretall è nato nel 1939 a Knoxville, nel Tennessee. La sua famiglia ha origini gallesi e norvegiesi, si trasferde negli Stati Uniti dalla Norvegia. Frequenta la Central High School di Knoxville e nel 1958 si iscrive all'Università del Tennessee, dove studia laureandosi rapidamente in musica nel 1961. Il suo interesse per la composizione fu subito palese e promosso da Van Bector, all'epoca direttore del Knoxville Symphony Orchestra e fondatore della School of Music University del Tennessee. e fu poi ammesso alla Princeton University nel 1961, dove studiò con Errol Kim, ottenendo un master nel 1963. Ha completato gli studi in musicali, frequentando nello stesso anno corsi avanzati di composizione presso l'Università delle Arti di Berlino, dove ha studiato con Boris Blecker, conseguendo una borsa di studio. Tritle faceva parte del gruppo di studiosi di David Van Bector, chiamato Van Bector Five. Tritle mantenne anche forti collaborazioni con compositori durante la sua lunga carriera, tra cui Liang e Kurt Cacioppo. Il pubblico della Camerata ha molto gradito il concerto, tributando al pianista notevoli applausi. Grazie a tutti.